parliamo prima della lazio così ce la vuole dire lei la formazione della lazio se se la ricorda a memoria casale romagnoli isai cataldi mininkovic luisa alberto felipe anderson immobile è zaccani sontuoso scontuoso sono il direttore torre ci lega quella dell'inter direttore con un domanda a gusto che è successo ma no ma lanzari come mai non viene mai visto da sardi ma guarda per una cosa difensiva perché diciamo che deve mette marusic a destra per equilibrare la squadra e quindi a sinistra lazari non può giocare isai sta facendo bene quindi è proprio una questione di equilibrio difensivo ma se non te verrà verrà ceduto l'anno prossimo lazari sì azz ma chi è che sono compra la bomba di ciccio come viene ceduto se rimane in zaghi l'inter ma chi è l'inter e che prende a destra si chi no a destra avresti mario se ci sai fondamentalmente prende il terzino sinistro anzi due minchia ma fellegrini come si chiama il terzino sinistro pellegrini dipende se dipende la juve quello che è un cesso questa questa è una notizia 10 milioni non riscatta sicuro dimmi a di meno sì io ho un sogno con la lazio tu anerix lo sai tu puoi immaginare io voglio impedirgli di festeggiarlo oggi è meglio questa giornata loro sono pronti scrivono meno 2 meno 1 domani sono già pronti domenica alle 3 sono lì sono lì proprio lì io li voglio vedere alle 3 con i fuochi d'artificio dai 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 e poi immobile è il novantesimo e vabbè miracoli di gris e poi poi dicono vabbè settimana prossima perché lì è ancora più divertente perché può essere una settimana così come dei coniglietti come dei topini appostati lì a dire c'è l'infrasettimanale tortelli tre giorni tre giorni così i topini a rosicchiare il legno a dire chissà quando perdo l'altra squadra che voglio vincere lo scudetto io li voglio avere quei tre giorni soffriranno ortele poi piangeranno la notte diranno oddio non riesco a festeggiarla oggi quei tre giorni sono lì che veramente o san gennaio o san gennaio però posso dire è un po' la speranza di tutti ragazzi dai diciamolo ma dai tanto ormai l'hanno vinto chissà ne frega no ma anche perché posso dire luca il mio sogno è anche vedere l'inter in conferma cioè il pensiero di vedere la lazio che toglie lo scudetto al napoli per questa giornata l'inter che con questa sconfitta non mai in champions posso leggere le informazioni sincero a costo ti dico l'ultima cosa a costo di rimanere terzo perché in questo momento sono terzo dietro la lazio non mi interessa un'altra giornata faccio vincere la lazio faccio vincere il napoli io voglio il napoli che primo tempo a 3 a 0 e la lazio che vince all'ultimo cioè credo sono lì sarebbe bellissimo adesso chi vince al novantesimo sono lì per sciabolare poi dicono no sarebbe tanta tanta roba luca sarebbe tanta roba napoli ancora poi ricominciano enrix meno 3 tornano lì di meno 3 fanno il calcolo all'indietro ma ma andiamo sulle formazioni dell'inter andiamo sulle formazioni dell'inter torre ovviamente prendiamo il nostro sito per favore torretta si 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 a unana darmiana cervi bastoni dunfris barella non gioca come non gioca l'unica italiana di marco da troppo perché non gioca barella che ha fatto no riposa riposo gioco a gaiardini ma che cazzo per me vedete gaiardini uomo veramente 100% veramente torre vedere gaiardini quasi andrei a vedere allo stadio sincero sicuro in parte dei titolari gaiardini azz è questa un'altra notizia vabbè una resa ha fatto pura l'andata mi sembra lo scarso i risultati dicono che non giochi non è barella nel cialanoglu in cialanoglu ma tanto il direttore è ma lui ha le sue fonti è recuperati fino a ieri lui ha i suoi giornali di riferimento è il direttore no però comunque o barella o barella cialanoglu giocano uno dei due sì ma gaiardini gioca sicuro no barella sicuro non gioca per me giocherà cialanoglu gaiardini per te no per me per altri per anche altri sapete qual è la cosa divertente con l'inter la cosa veramente divertente che nessuno che nessuno ne ha mai parlato perché poi alla fine anch'io dopo dopo stanziero non ne ho mai parlato però questa cosa è una cosa evidente il fatto che l'inter con la l'altro adesso si presta per giocare con le riserve con neanche come con metà scuola titolare ed esagero mentre invece mercoledì con la juventus c'erano tutti titolarissimi cioè la juventus scende in capo con una scuola formazione che fa schifo l'inter mercoledì per battere la juventus 1 a 0 facendo il gioco di allegri perché gioca l'allegri deve metterci una formazione titolare questo per far capire la grandezza è bastato un uomo per farti bruciare il culo va che va che all'inter bastava vuole mettere la primavera federico di marco no non si chiama così l'area perdonami francesco voi avete giocato con la squadra titolare non fa ridere non c'è niente da ridere quindi voi avete giocato con la squadra voi avete giocato con la squadra titolare noi abbiamo giocato con le riserve noi abbiamo giocato con un modulo mai visto con chiesa di maria miretti deciso di allegri però non è un merito di allegri perché questo è da rimportare la giusta importanza alla coppia in cui si sta giocando quello che ha fatto allegri significa rischiare pensando di saperne e prendere il cazzo ma io ti dico fosse allegri forse avrei usato di più ma l'inter che si deve giocare il campionato che resti ancora un po' di andare in conference league tra la partita con la juventus e la partita con la lazio io avrei privilegiato tutta la vita la partita con la lazio ma la lazio è una squadretta oltre a essere un incompetente è una squadra sta gestendo una squadra che può lottare per vincere supercoppa italiana e coppa italia per rosicare comunque i bastoncini io non rosico io non rosico mi sembra che lei sia abbastanza rosicando perché a me a me dalla coppa italia non frega un cazzo sono contento che sarò pastilloro guarda te lo giuro io gli auguro di vincere la coppa italia tanto poi io sollevo l'europa league e questi qua kit e murtese a urtelli dai tranquilli dai 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 sì ma luca noi l'abbiamo persa apposta tre anni fa l'europa league ogni giorno tu ogni tanto ti sveglia la notte dici la rovesciata la rovesciata c'è ancora gli incubi c'è ancora gli incubi c'è ancora gli incubi della rovesciata dal siviglia c'è giocato a chillando che volevo dire che ho perso apposta festeggiare cioè immagino i carri dei tifosi eccetera che alzano la paliglia ma perché c'hai mario dietro ha donato 50 sub ciccione porti rispetto no ma andare avanti la baracca però mi interessa di più questa della quindi allora l'inter sta per scendere in campo non mi ricordo neanche in quale campo contro il a colonia contro il siviglia contro il siviglia cosa succede negli spogliatoi succede il fatto che hanno detto sì ma giocatela come vuoi che cazzo andiamo a festeggiare l'europa league ci prendono per il culo era tipo fino agosto no no era tipo 17 agosto ma era l'anno del covi ma si lasciamo io un altro lo tanto noi cosa dobbiamo festeggiare l'europa league ma poi non c'è nessuno a milano non c'è nessuno a milano che cazzo che stiamo a fare allora hanno fatto così e poi e poi però poi però ti sei fatto autogol quindi qual è stato perché è fatto apposta e come se lo sono chiamati dal campo cioè si sono detti di voi non riuscivano a segnare questo è il problema io non c'è un segnale ad lucaco allora quindi erano talmente scarsi che vi siete dovuti fare autogol per mettere fine a quella agonia 17 agosto c'erano 33 gradi ma non era meglio uscire un po prima il block notice e penna perché ti insegno come si batte il seviglia tira fuori il block notice per favore ma io lo sapevo che l'avrebbe detto ti do una lezione su come si passa col seviglia io l'ho detto io non ho mai detto che vinciamo l'europa league l'ho detto che andiamo a budapest l'11 giugno ti mando il tutorial io non ho mai detto che vinceremo l'europa league non l'ho mai detto nessuno mi ha mai sentito dire che la juventus vinceremo io ho detto che noi andiamo a budapest io sarò a budapest poi la finale la finale sappiamo come si gioca sappiamo com'è io dico il seviglia lezione di calcio torre prende appunti perché l'inter tre anni fa ha preso il cazzo con seviglia ma l'ha voluto prendere poi l'hai detto ma l'hai detto cinque minuti fa che vinci l'europa league io vado in finale a budapest io vado in finale a budapest ma ha detto 3000 cose ma ha detto che vinci lo scudetto e vinci l'europa league ha detto che vinci la coppa italia ma lo scudetto è giusto così ragazzi l'europa league è una coppa del merda ha detto ma mai detto mai detto l'europa league è poco sotto immagini se l'italiana vince la champions league e poi c'è la juve che festeggia per aver vinto l'europa league torre stai tranquillo che se c'è un'italiana che vince la champions league quella di certo non è lì e lui è a risultare con noi e mio fratello è a risultare con noi quando dovesse succedere perché i nobili si rispettano forza milano forza milano ci vediamo a san siro ma rimaniamo sulla partita di domani per favore attenzione che c'è il pusi con 2 ottobre ma lei è una merda però dai ma basta ma basta juventus is back vinciamo lo scudetto ma lei è uno stronzo dai si ma ha tolti 15 ciccione capisci che questo campionato è più falsato del 2006 ma te l'hanno ridati 15 punti è più falsato del 2006 ciccione ce l'abbiamo un'altra ce l'abbiamo un'altra ce l'abbiamo un'altra andiamo a trovare calma 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 quante pagine c'ha su sto quadernino ma si ma ciccione vive per me ma poi lo metteremo all'asso a fine anno 22 ottobre la juventus vince lo scudetto ribadito classifica finale del girone d'andata minchia mi ricordo juventus 31 milan 31 napoli 29 inter 26 non ha presa manco una incredibile incredibile ma poi ridete 30 secondi 17 novembre la juventus sarà la prima squadra a battere il napoli era inutile battere il napoli perché tanto il napoli aveva già perso la parte di aprile quindi era inutile batterlo era già arrivata la sconfitta però vabbè non c'è bisogno che ti giustifichi per cercare di salvarti questa è così la metto così ma sai c'è un altro c'è un altro 6 dicembre spagna marocco 4-0 marocco poi comunque che incredibile però chi è che ha buttato fuori il marocco ribadisco aspetta aspetta 18 gennaio 2023 l'inter sarà buttata fuori dalla coppa Italia dalla juventus ha god ho Vernizio ora disegna una cosa guarda mi prende una vabbè su quello ce la presa si sono si sono penna si sono penna perché poi è facile segnare gli errori segni tutte le cose che ho detto io veramente ho segnato solo segnati Ri정 segnatiふè segnati no no amore mio segna Rabbio segnati Allegri segnati alla rimontata che abbiamo fatto dal settimo posto fino al quarto segna che la juventus andrà in Champions League perché queste cose io le avevo dette ed ero l'unico a dirle ed ero l'unico a dirle che saremmo vincente 12 aprile portelli secco io sono interista ma non conta niente questo è fare così non conta niente capisci che questo è far spugliare c'è un'altra c'è un'altra ancora si deve avvirare non vuoi dire la volta in cui ho detto forza Napoli tiriamo fuori la volta in cui ho detto forza Napoli allora facciamo così e le abbiamo dette tutte spiegaci io vi ho spiegato il content in Italia prego prendete un'altra cosa innanzitutto è facile dire le cose che si sbagliano le cose giuste non si dicono mai tipo gli allegri del fatto che la Juventus sarebbe tornata tra il primo e il quarto del fatto che la Juventus sarebbe entrata tranquillamente in Champions ecco dove siamo? Siamo terzi e praticamente lottiamo per il secondo posto punto numero uno, punto numero due ho detto che saremmo arrivati in tranquillità a Budapest e fino a questo momento siamo in semifinale a giocarla col Siviglia e vediamo se passiamo nel caso faccio ammenda punto numero tre ho detto subito subito che delle Coppa Italia non mi fregavano un cazzo ho detto da inizio anno subito che io volevo o lo Scudetto o una Coppa Europea sempre detto poi ho raccontato che sicuramente quindi la Coppa Italia mi farò anche frega un cazzo terzo punto la cosa più importante io arrivato alla partita con Napoli ho detto se vinciamo con Napoli vinceremo lo Scudetto perché? perché tu eri a meno 7 battendo Napoli andati a meno 4 poi è stata la storia della penalizzazione della depressione da Juventus che è caduta così ma se tu in quel momento lì batti il Napoli da meno 7 vai a meno 4 io sono ancora convinto ancora finalmente convinto che il Juventus vince il campionale se tu non dai la penalizzazione se tu non dai la penalizzazione tu sbatti a Napoli a Maradona mi dice è un problema espositivo perché tu pensi una cosa e ne dici un'altra in che senso Cicciolo perché lui ha detto Cicciolo è guarda segniti questo è Nelix segniti questo vediamo se questo lo sbaglio segna questo prendi penna prendi penna segna la Juventus vince la loro segna segna ma come? ma hai detto che non la ma hai detto ma hai detto ma l'ha detto ma quindi lo dici lo dici o non lo dici no 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 frega un cazzo prendi appunti iscrivi la Juventus vince la loro e se la vince tu vieni qui e ti discusa qui ha ragione imbecile qui ha ragione stai zitt Asia stai zitt Asia e vieni qui e ti discusa è il secondo nome Asia sai oh frega un cazzo è il tuo secondo nome frega un cazzo mi hai proprio preso bravo mi avete rotto i coglioni per favore dobbiamo andare sulla partita di domani che la stiamo evitando Aslani ha finito di pulire le pacchine dell'Inter la stiamo evitando in tutti i modi dobbiamo andare sulla partita di domenica per favore per favore dobbiamo andare sulla partita di domenica lo sai che me lo fa neanche riscaldare Enzaghi e Aslani dobbiamo andare sulla partita di domenica voglio voglio la lettura di Torre sulla partita di domenica ma sempre Torre legge tutto incredibile noi che stiamo ciao tifoso interista tifoso interista vaffanculo dalla femminile Fube è stato chiamato Fube dalla femminile mi deve leggere Torre non ho capito la lettura sulla partita domenica pomeriggio allora già l'ho detta oggi pomeriggio sarà una partita se l'hai già detta non ce ne frega un cazzo Torre ma c'è altro pubblico stasera qui devo ripeterla ma no dirò un'altra cosa che l'altro tempo sono dimenticato bene allora l'Inter sicuramente vincerà con due o più gol di scarto questo lo si è sicura e la Lazio farà la classica partita capito tutti dietro poi vanno tutti in avanti tanti contropiedi vedo poi Immobile che si sbaglia tantissimi gol che sbaglia tantissimi gol quindi vedo una partita un po' così tanti da parte della Lazio l'Inter pochi tiri ma approfitterà di quelle poche occasioni che gli capiteranno con Lautaro Mkhitaryan e attenti magari al terzo gol di Lex Stefan Dora sono curioso di sentire l'aria sei d'accordo? no ma dovrebbe già vedersi quello che ma ci facciamo alle tue l'aria cosa ne pensa della partita di domenica cioè mi spieghi perché l'Inter avrà già vinto no ma lei sa dire Lauti sa dire Aslari basta nient'altro dai così mamma mia Luca quanto sei veramente stessista prego prego no stessista vabbè dai cosa parlo a fare tanto ormai hai ragione le muto le muto tutti prego Ila prego grande Adelix io sei un fenomeno sta cosa l'Inter già vinto no io la vedo una partita molto difficile non farò il pronostico perché poi non voglio sembrare il paraculo no no io ma figurati non lo fai io con le scaramanzie mie poi parlate dei napoletani siete glamorosi siete ma tanto vinco la Coppa Italia poi parlate dei napoletani non mettere gente in mezzo che non c'entra poi parlate dei napoletani cosa fai non ti esponi per scaramanzi la Coppa Italia contro la Fiorentina no non mi spongo non ti esponi ma quindi come la vedi sta cazzo di partita Ilaria come cazzo la vedi ciao amico mio io la vedo una partita difficile grande l'Inter secondo me dopo dopo essere tornata con appunto dopo aver battuto e buttato fuori la Juventus tanto in zaghi nelle coppette è bravo campionato un po' meno per me non la so progestire ma va nello stadio andrà in panico no no molto male comunque taglie dietro Ilaria è spettacolare per pochi ho fatto io te le ovviamente sono un genio voglio sentire Ciccione sulla parte di domenica ti posso dire complimenti che tra l'altro posso dire l'ho incontrato allo stadio un saluto a Francesca taglia un saluto mi calmi per favore l'hai incontrata secondo me sarà una gara equilibrata decisa da degli episodi dove Francesco io ti ricordo che noi siamo l'Inter voi siete la Lazio te lo ricordo a posto io ti ricordo che all'andata avevamo fatti tre ma che inter era l'andata torre veramente non l'hai già tirata abbastanza io credo che sarà una partita equilibrata secondo me ma nessuno che si espone però che vuol dire equilibrata no se l'Inter farà gol secondo me sul calcio piazzato come 2 a 1 la lettura è facile ragazzi 2 a 1 vedo io